Io vorrei far parlare la gente perché noi venimo quanto tempo fa qui? 15 giorni fa siete venuti e vi ho denunciato questa cosa che il pod non stava bene e vi dico ancora che non sta bene nemmeno per le ringhiere perché purtroppo le ringhiere il pod è stato fatto sbagliato e ve lo dico io E' una pompa di pentina però mi sembra un tecnico Quasi un tecnico perché io ho sentito parlare loro perché purtroppo stando qua io ho sentito parlare tutti loro e automaticamente il pod non è stato fatto bene, è più stretto e le ringhiere si doveva una buona difficoltà per metterlo C'erano spesso 80 milioni di euro non so come per fare il ponte Io 50 milioni di euro, 50 mila euro di debiti ho fatto per tenere il bianca pet Ma volessi sapere una cosa, questa matrice che è caduta la strada, ve l'ho detto 15 giorni fa Ma questo ponte se ne carico Ma che sangue chi per metterla passata Ma volerà bene su spazzibili i ponte Con quelli di margine di 10 anni ci vogliono metterle nella tavola della buona Vedi a pagnare i soldi E 50 mila euro di debiti per dare la buona